Il finale trilling del Guariglia ha la forza travolgente di mettere a suo quadro un'associazione arbitro Maradona Junior e turnover venutesi a determinare in 85 minuti di partita nella quale l'Agropoli a differenza di Scaffati ha giocato male ma ha vinto mentre sul campo della capolista aveva giocato bene senza portare a casa nemmeno un punto che avrebbe meritato. Questa volta si è ribaltato tutto, forzato turnover per l'allenatore Cianfrone e squadra molle senza verve e in balia di un avversario che durante il corso della partita con l'aiuto di un arbitro scandaloso probabilmente condizionato dalla presenza di Maradona Junior scolificato e in tribuna ha messo in serie difficoltà l'Agropoli fino a 5 minuti dalla fine quando sembrava ormai fuori ufficialmente dalla Coppa Italia. Peraltro in 10 la formazione locale per l'espulsione di Costantino il quale sin dalle prime battute della gara non ha accettato il mediocre e scandaloso arbitro da eliminare dalle liste della sezione di Nocera da dove proveniva. Una vergogna assoluta. L'Agropoli ha sofferto la fisicità degli ospiti e qualche assenza di troppo. Yeboah non convince il tecnico da centrale e lo sposta a destra dopo poco. Monzo a centrocampo e Costantino in difesa squadra rivoluzionata per esigenza e questo ha messo in condizione la formazione agropolese di non essere fluida e briosa come spesso gli capita. Gli ospiti hanno perso una buona occasione contro avversari rimaneggiati. I napoletani sono stati avvantaggiati dall'arbitro il quale ha consentito gioco duro a volte violento senza né fischiare né punire ufficialmente i giocatori napoletani. Forse la superiorità si è determinata per questo motivo, perché sul piano del gioco non ha mostrato superiorità all'Agropoli, in vantaggio all'undecimo della ripresa i napoletani con Navarrete dopo un erroraccio di Monzo a centrocampo. Poi l'espulsione di Costantino. È il finale trilling che cambia però il giudizio. Il ribaltamento del risultato, arrivato in extremis, riabilita l'Agropoli e la mette in corso per la qualificazione che sembrava impossibile fino al novantesimo minuto. Ma invita anche ad una riflessione. I gol sono arrivati con la squadra tutta in aria per segnare il pareggio e la vittoria. Sono arrivati da una zona dove l'Agropoli non sosta mai, negli ultimi venti metri. Due cannonieri come Yeboah e Margiotta, dentro l'aria, davanti al portiere, sono micidiali. Ma nel 4-3-3 giocano lontani dalla porta e hanno pochi palloni per segnare. Il campo smentisce Cianfrone. Gli dice che se gli attaccanti giocano davanti al portiere e hanno molte occasioni per segnare, quindi se dopo quattro partite Yeboah segna il primo gol e se Margiotta era in astinenza da tre partite, la colpa non può essere di altri se non dell'allenatore. Lo hanno fatto in cinque minuti, in una situazione disperata davanti al portiere. I fatti poi dicono sempre la verità. E non a caso l'Agropoli è settimo in classifica, in campionato, dopo quattro giornate, fino a cinque minuti dalla fine, era quasi fuori dalla Coppa Italia. Ci vuole onestà in tutto, anche ad ammettere gli errori. Tutti possono sbagliare, ma perseverare no. E Cianfrone deve sapere che non può scherzare e giocare con la tasca degli altri. La smetta con questo ridicolo 4-3-3 e passi a moduli più concreti, magari sfruttando le caratteristiche dei giocatori importanti arrivati. La chiosa finale per gli ospiti. Hanno perso la testa in panchina colpendo a gioco fermo un calciatore dell'Agropoli, reo di aver toccato con il pallone la testa di un avversario. Il tecnico Maradona sembrava più il capo ultras di questa squadra. Relegato in tribuna per le cinque giornate di squalifica, ha fatto di tutto per dimostrare che questa squalifica large è giusta. In campo hanno fatto un finale da dimenticare, mettendo in discussione la qualificazione. Grazie a tutti.